Stiamo parlando del tema della dual career che per noi atleti è una cosa molto importante perché ci permette di conciliare bene la nostra carriera ad atleti ma anche la nostra carriera a livello universitario. Sono entrambi due percorsi difficili ma che possono coesistere e è importante che venga valorizzato sia l'uno che l'altro senza dover rinunciare a qualcosa, perciò è molto importante il fatto che le università diano la possibilità agli atleti di studiare in maniera un po' più facilitata e accessibile per tutti.